Grazie a tutti. 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 Abbiamo proposto proprio in questa sede di costituzione di comitato Un giorno per il futuro, abbiamo proposto come IMPEDAP alcune cose e vorrei lanciarle come idee. Una potrebbe essere quella dell'inserimento di momenti formativi extracurricolari in tema di finanza e previdenza nel corso dei percorsi di istruzione e formazione obbligatori ed in quelli successivi all'obbligo. Ma altra cosa ovviamente è la sistematizzazione dell'invio dell'estratto conto assicurativo. ci siamo già trattenuti prima e non riprendo il tema caro al professor Brambilla il quale ne conosce tutti i risvolti positivi e negativi e il fatto che ci dica che entro il 2011 sicuramente anche noi saremo in grado di recuperare l'ultimo gap e l'ultimo svantaggio che ci colloca mi consola perché ci stiamo veramente impegnando in questa direzione. Ancora si potrebbero utilizzare le occasioni per l'informazione obbligatoria dei lavoratori in tema di sicurezza. In fondo la versione complementare, la presenza complementare è una forma di sicurezza. Voi tutti sapete che vi è una fase formativa obbligatoria dei rischi del lavoro ai fini della importunistica sul lavoro, ai fini della conoscenza dell'ambiente di lavoro. Si potrebbe tentare in quella sede di inserire anche un capitolo per parlare di previdenza. Un'ulteriore linea di azione può essere costituita dal coinvolgimento degli enti bilaterali per la formazione dei lavoratori affinché questi possano farsi carico anche di percorsi e di educazione previdenziale. Ecco che allora si introduce il ruolo delle parti sociali, chiamate a collaborare anch'esse in modo sostanziale come attori a questo processo del secondo pilastro e quindi non di meno anche al processo di diffusione della previdenza complementare. Ma non solo attraverso queste pregevoli iniziative. Mi riferisco al settore pubblico per ricordare che si pone forte oramai l'esigenza dell'avvio e dell'operatività concreta dei fondi pensione già costituiti sui quali non ci sono più ostacoli per la loro operatività. Mi riferisco, come loro sapranno, al Fondo Sirio per i dipendenti statali, enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali, il Fondo Perseo per i dipendenti della sanità e degli enti locali per un complesso di circa 1.600.000 pubblici dipendenti. Si attende infine che la contrattazione collettiva o la concertazione negoziale preveda forme di previdenza complementare anche per il personale, comparto università, enti di ricerca, forze armate, polizia. Per i magistrati, i prefetti, i diplomatici, i avvocati dello Stato, i professori universitari, prima ho accennato al personale universitario, quale personale non contrattualizzato, le forme pensionistiche complementari potranno essere istituite secondo norme dei rispettivi ordinamenti o in mancanza mediante accordi promossi dalle loro associazioni. Il ruolo delle parti sociali è dunque molto importante e centrale perché anch'esse possono dare forte e decisivo impulso a questo problema, a questo processo, ancora lungo ma sicuramente l'unico idoneo a risolvere il problema. In definitiva, prima si avviano i processi di sostegno alla previdenza obbligatoria attraverso la previdenza complementare, tanto prima, questo è ovviamente, mi sembra, le verità di Catalano, ma tanto prima i nostri giovani potranno crearsi una base per il loro futuro. Io vorrei che al termine di questi incontri ognuno di noi si senta direttamente, direi personalmente, responsabilizzato a fare la propria parte perché molto di quanto è qui è a portata di mano, c'è solo necessario di impegnarsi e di attivare tutte le energie e le sinergie necessarie e dove queste non bastassero di impegnarsi a muoversi nelle stanze giuste dove certi percorsi si possono anche ancora modificare e rettificare come è stato prima auspicato e come sicuramente potrebbe essere necessario. Ma molto, ripeto, è a portata di mano e nelle nostre disponibilità occorre sicuramente però impegnarsi fortemente perché con un certo clima di indifferenza e di ritardo che c'è si possa superare questo momento di stallo per dare un avvio concreto al problema. È un fatto principalmente culturale. Il resto verrà di seguito. Grazie. 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 Grazie.